Il 15 luglio di 34 anni fa veniva ucciso dalle Brigate Rosse in piazza Nicola More il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Antonio Ammaturo. Il suo esempio premiato con medaglia d'oro al Valor Civile viene ricordato ogni anno insieme con il sacrificio del suo autista, agente scelto Pasquale Paola, con il quale si stava recando in questura. Sul luogo dell'attentato questa mattina è stato deposto un omaggio floreale dalle autorità che rappresentano la Polizia del Comune di Napoli e successivamente si è tenuta la commemorazione nella Basilica San Giovanni Maggiore con il coro delle voci bianche di Giuliano alla presenza di autorità civili e militari. In tale occasione sono stati anche consegnati premi prestigiosi per le loro attività ai poliziotti della sezione omicidi della squadra mobile di Napoli del commissariato di Acerra e dagli agenti del commissariato San Giovanni Barra e della Polizia Postale.